ragazzi carissimi bentornati in un nuovo video di domenica un video leggero dove parliamo di un argomento molto interessante ovvero quello che è il mondo della realtà virtuale nel gaming ok ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale ragazzi perché è importantissimo il vostro supporto mi dà una mano veramente grande a far crescere i numeri siamo tanti siete tanti che guardate i miei video pochi però si iscrivono quindi lasciate un iscrizione andate giù in descrizione perché troverete tutto telegram ok col canale offerte il mio profilo instagram su cui piano piano vedremo un sacco di belle cose e non vi perdete ovviamente il resto dei video allora quando parliamo di realtà aumentata parliamo di un macro argomento che abbraccia varie tecnologie va bene e soprattutto parliamo di tecnologie in rapido sviluppo cioè strumenti e che sono veramente interessanti per quanto riguarda il mondo del gaming noi parliamo principalmente di realtà virtuale cioè di quell'ambito della realtà aumentata che utilizza ovviamente dei dispositivi che sono i VR ok mentre per realtà aumentata noi intendiamo tutto quello che si può utilizzare anche diciamo in combinazione con l'ambiente reale no ricordate pokemon go quella è stata una delle dei primi successi ok della realtà aumentata con il quale noi con il cellulare sfruttavamo la realtà virtuale insieme alla realtà diciamo normale con i visori invece noi parliamo di realtà virtuale a tutti gli effetti perché è un modo completamente immersivo di poter giocare un po a dei titoli ovviamente che sono compatibili ovviamente c'è esistono una marea di visori sul mercato i più interessanti a mio avviso sono 3 o 4 incluso il playstation VR e il loro loro compito è quello di creare completamente intorno a noi una realtà virtuale nei quali nella quale poi possiamo giocare ci sono alcuni visori che hanno addirittura un loro play store cioè hanno dei giochi scaricabili da una piattaforma loro quindi possono essere utilizzati completamente in mobilità i visori più interessanti sono poi anche quelli che si connettono al computer e possono sfruttare dei giochi che noi scarichiamo sulle normali librerie mi viene in mente ad esempio il meta quest 2 che è l'oculus di meta che è uno degli oculus ovviamente interessanti perché perché sfrutta lo store di di meta con tutti i giochi uno dei visori più interessanti in assoluto sicuramente è index vr che invece è di proprietà ovviamente di vedi di di valve quindi è di steam praticamente e che si usa anche in abbinazione con la libreria steam poi abbiamo per esempio l'htc il vive pro 2 che costa un botto di soldi abbiamo il playstation vr eccetera eccetera e sono tutti dei degli strumenti interessanti qual è il punto fondamentale qual è la differenza tra usare un visore e usare un monitor è la differenza ovviamente l'esperienza di gioco ma dal punto di vista hardware che cosa cambia cambia veramente poco perché mentre nel momento in cui utilizzate un monitor il vostro hardware deve andare a renderizzare il gioco su un monitor in questo caso con i visori e il vostro hardware dovrei dovrà andare a renderizzare il gioco su dei piccoli monitor lcd che sono all'interno dei visori di solito ne sono due che poi vengono combinati per dare l'effetto tridimensionale ovviamente come sul monitor ad una certa risoluzione la gpu va a lavorare così va a lavorare sui due lcd contenuti all'interno dei vari oculus o dei vari vr chiamiamoli vr in generale ok il vr non so se qui c'è una foto dovrebbe esserci eccola qua ve ne faccio vedere una hanno ovviamente questi due monitor lcd con una serie di lenti che vi danno questa questa diciamo tridimensionalità e sono anche dei monitor lcd ragazzi con delle risoluzioni belle elevate non è che stiamo parlando di monitor da 500 per 500 di solito sono sono quadrati questi due monitor parliamo di piccoli monitor lcd che superano anche la risoluzione full hd poi dipende dal modello ma normalmente io ce l'ho segnate qua pensate che ad esempio l'htc ha i suoi monitor che hanno una risoluzione di quasi 2400 per 2400 quindi parliamo di una risoluzione che oltre anche il 1440 p il playstation via disponibile in varie versioni ma siccome è abbinato alla playstation che come sapete è comunque una console a una risoluzione che di circa 1080 per 1080 per 960 quindi anche quello una bella risoluzione il valve di che si usa con steam a una risoluzione per singolo monitor di 1440 per 14 per 1060 quindi in soldoni parliamoci chiaramente che voi usiate un monitor o che voi usiate un vr ci vuole un hardware abbastanza potente perché come se voi stesse a tutti gli effetti renderizzando queste risoluzioni su un monitor quindi avete la necessità di avere un buon framerate altrimenti non avete quella bella diciamo sensazione di fluidità inoltre sono tutti i visori che ormai superano abbondantemente 75 hertz perché partiamo ad esempio dall'oculus quest 2 di meta che è un 74 hertz se non mi sbaglio a tutti gli altri incluso il il playstation vr che arriva anche a 120 hertz ok quindi bene o male a seconda del vr a seconda della piattaforma a seconda del gioco perché ovviamente il dettaglio grafico e il gioco sono ottimizzati per l'utilizzo con visore c'è bisogno di un buon pc quindi non stiamo parlando di roba da 5 600 euro la console è un discorso a parte parliamo di pc abbastanza potenti da almeno 1500 a salire perché dipende anche dal gioco che voi volete utilizzare se voi volete utilizzare che ne so io beat saber che è un gioco giochino così che voglio dire potete utilizzare il pc voglio dire meno potente se voi siete gli appassionati giochi diciamo di guida ok come non lo so un assetto corsa competizione o tutti quei giochi che sfruttano il vr ragazzi ci vogliono i computer di un certo livello ok quindi questo è poco ma è sicuro inoltre con le nuove schede rtx tante delle tecnologie che noi vediamo sui monitor come non lo so il dlss il ray tracing mano a mano sono state implementate vengono implementati nei giochi anche per i visori quindi capite che è tutto quello che noi facciamo su un monitor lo possiamo fare anche su un visore e l'unica cosa che cambia ovviamente la risoluzione di riferimento che nel caso dei visori sono delle risoluzioni differenti ma i principi di funzionamento di funzionamento dell'hardware è sempre lo stesso io ho fatto un esempio di un pc che ovviamente un pc fatto a risparmio è perché non stiamo parlando di un pc dalla dal costo spropositato ma parliamo di un pc comunque da quasi 1500 euro e per poter sfruttare un visore in maniera adeguata non è che abbiamo bisogno di processori che spingano particolarmente in full hd ma già un 13.400 vi serve ok sarebbe meglio anche 12.600 k su alcune situazioni ma attualmente amd per me è un attimo fuori budget perché la piattaforma m5 costa un botto i nuovi processori lisci costano più dei processori x tra poco usciranno i 3d quindi amd è un po particolare le b650 costano ancora un botto quindi voglio dire un pc base per un buon gaming a 360 gradi ovviamente ma per poter sfruttare un vr con un 10.400 f un 13.400 f scusatemi o un 12.600 k siete su un buon livello nel momento in cui ci mettete magari una b660 m di fascia media 150 euro le vostre se fossi 16 giga di gddr e di gddr di ddr4 3600 ok queste sono delle c18 vabbè comunque voglio dire sui 60 euro quelle sulle ram un dissipatore senza strafare perché voglio dire non è che abbiamo bisogno di dissipare mostri di potenza ma gamma x 240 l va benissimo ci prendiamo un pci gen 4 da un terra perché come vedremo in un video tra poco il direct storage sta piano piano approdando sui nostri pc un gaze io ho preso l'antec box l'atx 70 euro ma ci sono c'è il mondo intero di gaze un alimentatore da 650 750 watt sul quale dovremmo per forza rinunciare al pci gen 5 nativo perché gli alimentatori sono aumentati di prezzi in maniera assurda l'atx 3.0 meno costoso costa 170 euro capite che poi si va totalmente sulla scheda video ok quindi voi considerate una media di circa 8 900 euro per la build senza gpu e poi lanciatevi su una gpu è ovvio che per esempio una 6800 xt a 680 euro è una scheda che vi permette di gestire in maniera tranquilla le risoluzioni e voglio dire mille 440 p e superiori però con alcuni via non è proprio il massimo perché se già vi pigliate un htc che ha una risoluzione molto elevata dei due monitor lcd ragazzi ci vuole una scheda video superiore ok ci vorrebbe qualcosa di fascia alta però alternative oltre ad una md potreste provare a prendere una 6900 xt potreste aumentare ancora il budget provando ad andare su una 7900 xt casa invidia il discorso ragazzi è un po particolare perché come vedremo la 40 70 ti nonostante non sia tutta questa scheda video eccezionale però si inizia a trovare in giro in alcune versioni come la malli sugli 850 euro che è un prezzo altissimo per una 70 ti ai ma che di fatto fa fuori quasi completamente tutto il resto delle gpu della passata generazione serie 3000 perché a meno che voi non la comprate usata una 30 80 una 30 90 si iniziano a trovare a prezzi scarsi potreste puntare a una 30 70 una 30 70 ti ai e risparmiare quei 150 euro a volte anche qualcosa in più quei 200 euro però in quel caso sappiate che avrete avreste una scheda video molto meno potente di una 40 70 ti ai e quindi dovete un po cercare il compromesso in ogni caso un esempio come questo 1500 euro che non è aggiornato perché se non mi sbaglio ecco qua 1482 e voi riuscite a farvi un pc per giocare ovviamente su monitor tranquillamente ma nel momento in cui voi attaccate un vr decente diciamo di buona qualità tra i migliori che si possono trovare oggi in circolazione riuscite a gestirlo in maniera abbastanza tranquilli ovviamente aumentando i budget ragazzi se saliamo 1800 1900 2000 euro iniziamo a prendere una 40 70 ti ai schede video del genere avete ovviamente tutto quello che volete cioè nel senso che non avrete problemi a gestire anche il vr con risoluzione più alta da questo punto di vista io non li ho provati spesso cioè non ho un vr per me non l'ho acquistato per me però ho avuto diverse esperienze con i vr mi sono informato per molto tempo fino a pochi mesi fa perché mi sarebbe piaciuto acquistarne uno vi dico la verità quando ho preso la 40 90 soprattutto è un argomento che potremmo approfondire ulteriormente però è uno di quegli argomenti un po' diciamo meno addentrati proprio nel mondo dell'hardware cioè si va un po' su una cosa differente non so quanto vi possa interessare quanto vi possa in realtà piacere una cosa del genere quindi fatemelo sapere giù nei commenti fatemi sapere se qualcuno di voi soprattutto a un vr a uno di questi non lo so un oculus quest un valve un htc così da dare anche un feedback giù nei commenti di quella che è la vostra esperienza come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo martedì con un prossimo video grazie per essere stati qui ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti